Assessore, approvate nuove regole per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche ad Arzignano. Dopo 16 anni arriva ad Arzignano il nuovo piano per il commercio su aree pubbliche che tiene conto dei cambiamenti morfologici e sociali avvenuti nella nostra società e quindi nelle piazze dove avvengono queste manifestazioni, ma anche delle ultime novità normative inerenti a questa tematica. Il piano è frutto di ormai un anno di lavoro da parte dell'amministrazione comunale e dall'ufficio commercio. Esso ha introdotto delle particolari novità soprattutto per quel che riguarda il mercato settimanale del martedì. Infatti ci siamo occupati di introdurre la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri per la sorveglianza dello stesso, nuove misure di sicurezza e via di fuga per agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza. Abbiamo anche razionalizzato la struttura del mercato per agevolare la viabilità esterna e la friabilità stessa da parte dell'utente della manifestazione settimanale.